Sono state già un centinaio le mascherine ritirate da questa mattina da genitori, nonni e piccoli che presso il parco del mercatello hanno colto l'opportunità offerta dall'associazione Humanitas che ha distribuito gratuitamente i dispositivi di sicurezza omaggiati dalla regione Campania. La distribuzione gratuita andrà avanti per tutta la giornata, è importante già dai più piccoli, ha detto il presidente dell'Umanitas Roberto Schiavone, far comprendere l'importanza di indossare la mascherina. Due mascherine per ogni bambino, sono bellissime, tutte colorate e cerchiamo di inculcare anche ai bambini questa mentalità di portare la mascherina sperando che quando prima questa epidemia vada via, col caldo dovrebbe finire e tornare un poco alla normalità perché i bimbi hanno bisogno di libertà, hanno bisogno di uscire, hanno bisogno di divertirsi e noi possiamo tenere chiusi in casa a farli soffrire. Noi adulti possiamo anche soffrire un poco, ma i bambini devono uscire. Schiavone si è anche soffermato sulla proposta di istituire gli assistenti civici non risparmiando dure critiche al governo nazionale. Guardi, io non voglio essere polemico, ma questo governo penso che sia arrivato il momento che deve andare via perché sta facendo tante cose strane, sta regalando milioni di euro a enti, associazioni, cioè poi alle pubbliche assistenze, alle misericordie d'Italia se le è dimenticate completamente, non riusciamo a capire che stanno combinando, cioè veramente fanno cose strane, ma con migliaia di volontari della protezione civile abbiamo bisogno degli assistenti, perché si devono inventare un'altra cosa? Non lo so, sperano che questi portano voto, ma come fa uno che non ha esperienze in niente, andare a cina persona, andare a dire, cioè tu qua non vuoi stare, stai facendo assembramento, ma è una cosa così difficile, ci vuole educazione, la gente è stanca, se non tiene educazione ma come fai ad andare a cina una persona? Cioè li prendiamo per strada e li mettiamo a fare gli assistenti, ma chi se l'ha inventato questa altra cosa? Ma questi sono pericolosi, guardate veramente sono pericolosi, devono andare via al più presto perché sono pericolosi.